amiche ed amici del tg dei fuori onda ben trovati a nuovo appuntamento oggi cominciamo con il belgio lei è una famosissima conduttrice meglio lo è stata fino a qualche anno fa del principale telegiornale della tv pubblica rtl si chiama akhima d'armouche vediamo buonsoir sono disolata mi perturba herman van rompeu va-t'il quitter son poste de premier ministre c'è la question qui se pose ces dernières heures le bourgmè socialiste de saint nicolas patrick avril merde je perds mon oreillette tiens ça c'est bizarre oh di merci c'est très perturbant ça l'image elle est comme ça vraiment ah je suis brune ah d'accord ah je suis brune voilà le bourgmè de saint nicolas patrick avril écope d'un an de prison avec sursis l'opposition réclame sa démission immédiate le possible départ d'herman van rompeu pour présider l'union européenne séduit de nombreux eurodéputés une perte pour la belgique selon la présidente de son parti voilà c'est la fin de ce journal blanc non pas pour l'instant mais l'info continue en radio sur belle rtl ainsi que sur notre site internet c'est bizarre en fait ce sera un retour comme ça tout le temps dans un instant la météo de stéphane van benningen suivi du magazine images à la pluie demain et quelqu'un peut faire blabla merci à 13h gregory willock excellente soirée à vous merci de nous suivre à demain suivi toute l'info en continu sur rtlinfo.be ah non je suis russe ok dal belgio torniamo in italia o almeno andiamo in grecia dove ci sono stati dei grandissimi incendi è stato mandato per sky tg 24 jacopo arbarello il giornalista jacopo arbarello poco prima della diretta sky tg 24 davanti a sé a tutto il kit del perfetto giornalista il microfono foglie di carta con la scaletta è un bel rotolone di carta igienica ma avrà mica scambiato lo studio per una toilette boh stiamo a vedere ancora qualche accorgimento vi è partito ecco srotola con cura bene tutta la carta tampona la fronte perlata una bella soffiata e si ripassa il fazzoletto urfido su tutto il suo bel visino complimenti eccoli un'altra bella passata tra poco sei nonna dai dati un contegno sei sempre a sky tg 24 questo è sky tg 24 questo è sky di corsa 24 e non ti stressare che sta iniziando scorie e la cosa simpatica appunto di questo fuorionda era l'utilizzo del rotolo di carta igienica nello studio del collegamento per il giornalista sky rimaniamo ancora in italia ho un piccolo maggio a una giornalista mediaset silvia vada per comunità sarebbe come dati la in che d in Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.